Le persone usano i social network in modi molto diversi tra loro. C'è chi si limita a usarli per guardare i contenuti pubblicati dai propri amici e chi invece posta regolarmente foto, video, pensierini e link, come se i social fossero un insieme di diario, agenda e album di fotografie di quelli prima di internet. Per chi usa i social network in questo modo potrebbe essere utile salvare il proprio flusso di contenuti da qualche altra parte, per non perderlo in caso di emergenza. Ci sono alcuni servizi e programmi che consentono di salvare in modo ordinato le foto e i video pubblicati su Instagram, e altri social network, nel caso un giorno il proprio account venga hackerato o cancellato per sbaglio, si decida di eliminarlo volontariamente, o la società che lo gestisce venga chiusa. L'esperta di tecnologia del New York Times Ilunga di Biersdorfer consiglia quelli che seguono.